E' questo coso qua? Che cos'è? Cazzarola che cos'è quel coso qua? Ok allora possiamo partire tra le gambe del grano La misura è 90 o che cos'è 90? E' questo subito l'alluminio cosa te ne ho detto? Guarda qua alluminio ovunque questi campi qua va bene Quello 85 qua vediamo se non è ancora un pezzo di alluminio Vediamo se è uscito è uscito di qua No 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 un altro pezzo di alluminio guardate qua no no questo è ferro forse fa vedere Sì forse è un pezzo di ferraccio suona un botto perché c'è su un sacco di ruggine Va bene proseguiamo mamma mia 90 addirittura Mamma mia che cos'è che è? Oh mamma ma guardate cosa abbiamo trovato Guarda qua cosa abbiamo trovato Che cos'è quel coso qua? Bellissimo questo target qua ma non so cosa sia sapete voi che roba è? Magari un copri ruota di trattori o dell'aratro non so fatemelo sapere qua nei commenti che cos'è secondo voi Allora vediamo Nooo guarda qua è incredibile È incredibile È incredibile è alluminio ovunque questa anche chiusa di lattina era guarda Era anche chiusa tuborg Cos'è questa qua? Drop Beh non so cosa sia Va bene portiamo via questa schifezza Vediamo che roba è È uscito Porca miseria ancora guarda qua Questo è quello dell'altra volta Questo l'ho trovato in un video precedente guarda qua è lo stesso Adesso non ho gli occhiali ma mi sembra che era una di quelle pastiglie per il mal di testa mal di denti Guarda qua uguale eh Se ho ancora la foto a casa che l'ho pulito te la rimetto qua a schermo Ancora un'altra di queste qua Vediamo se è alluminio anche questo Ma mi sa di sia eh Vediamo Ancora sotto Eccolo qua guarda Guarda che roba E' una roba incredibile guarda qui Guarda che roba 55-56 Superficiale Vediamo se riusciamo a trovare un'altra lattina va Va a vedere E' questo E' questo E' questa cosa qua mi sa Mi sa che questa cosa qua Può vedere Eh si Eh si vabbè almeno non è una lattina Cosa sarà mai questa cosa qua Non lo so Io li pulisco Le lattine le sbatto via dopo di là c'è un cestino in fondo sulla strada Questi qua li pulisco vediamo cosa sono magari è qualcosa di interessante o magari no Proviamo a vedere Proviamo a vedere E speriamo che non sia ancora alluminio Intanto il sole se ne sta andando ragazzuoli Menomale che è un po' bella Sabbiosa qui la terra Vediamo eh Porca miseria guarda qua Guarda che roba Questa è una fanta Ma come mai Ma come mai Cos'hanno combinato qua Boh Portiamo la casa dai Allora qua abbiamo Boh un segnalino Di da 55 Vediamo Sperando che non sia sempre l'alluminio eh Vediamo E' uscito E' uscito E' uscito E' sorta E' gupi E' qua E' qua E' qua Mamma mia spero che sia una moneta chè Sì e' qua E' qua E' qua E' questo cosa qua Che cos'è o? Cazzarola Che cos'è quel coso qua? Ma è qualche moneta schiacciata vecchia No? Un pezzo di ferro Non lo so eh Bisognerà pulirla bene Pensava fosse una votiva Ma è schiacciata in mezzo guarda Allora intanto sta andando giù il sole Guardate che spettacolo Guardate che spettacolo Sta andando giù il sole Allora andiamo giù di qua Là c'ho il mio pandino Non so cos'è quella cosa lì Dopo dovrò pulirla bene Prima con lo spazzolino Dopo io la pulisco con la lavatrice ad ultrasuoni Che ho appena preso Quest'estate Molto comoda 25-30 Proviamolo qua Intanto Questi ci passano sopra la testa Allora dovrebbe essere qua Com'è andato? Mi sono già passato sopra la testa anche prima Impazziti questi Vediamo se è uscito No ancora un'altra lattina Guardate qua Incredibile Guarda qua Un'altra schifosa lattina Va bene Portiamo via che questa Allora poco profondo Adesso ho fatto un piccolo scavino Ma guarda qua Guardalo qua Questa è una madonna che cos'è? Che è una madonna che cos'è? Che è una madonna che cos'è? Che cos'è? Mamma mia Che cos'è questa cosa qua triangolare? Mamma mia come pesa Qualche dente di qualche attrezzo per arare? Non ne ho idea Pesantissimo Guarda che targhettone che è uscito Bellissimo questo Al massimo dopo come sempre Mi raccomando Vai a guardare anche la mia pagina Instagram Dove metto su le foto dei miei target E anche la mia pagina Facebook walking track Questa qua è ancora alluminio 67,71 Dai facciamo questo qua Dai facciamo Facciamo questo Dopo ci salutiamo Vediamo un po' Fortuna che Che non è dura Ancora tanto la terra Allora Ma questo qua è meraviglioso Mi piace Mi piace un sacco Che cosa di grossa Allora Ancora sotto E' questo no? E' sotto qua Gratta qualcosa Gratta qualcosa Vediamo E' uscito No Sta' attento Questa cosa è Questa cosa è E' questa cosa qua Che cos'è che cosa qua? Cos'è questo cosa? Magari è soltanto un pezzettino di ferro che si è staccato dal Degli attrezzi Sì Degli trattori agricoli Solo che Non è ferro Però Cosa c'è qua ancora? Aspetta 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 Non lo so Eccoli qua Dopo gli facciamo le foto a casa E vediamo cosa sono Aspetta che li metto nella saccoccia Che ho dimenticato la borsetta Va bene Copriamo le buche Anche se devono arare Ma Non è casa nostra Quindi Le buche si coprono Da qualcosa Qui fa paura Allora ragazzi Anche per oggi è tutto qua Dei campi Allora dai Qualcosina Poco poco L'abbiamo trovato A parte un sacco di alluminio Che adesso L'ho già sbattuto in macchina Da buttare via Non so come mai ci sono Tutte queste lattine Non ho più un paio di idea Poi magari La prossima volta Quando passa il mio amico qui Contadino Li chiedo Comunque niente Quel triangolone lì gigante Che abbiamo trovato Secondo me È qualche lama Di qualche attrezzo Qua agricolo Sicuro È pesantissimo Adesso l'ho caricato sul pandino Lo porto a casa Lo pulisco Magari Poi gli faccio delle foto Vediamo cos'è E poi Quella cosa lì schiacciata Che non so cos'è Non ho più paio di idea Se potrebbe essere una moneta O non una moneta Dopo Devo provare a pulirla bene Sia con lo spazzolino E poi anche con la macchinetta Ad ultrasuoni Insomma Dopo Al massimo Vi metterò le foto Su Instagram Va bene Io vi saluto Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Fate conoscere il canale I vostri amici Mi raccomando E noi come sempre Ci vediamo Al prossimo video Di ricerca Col meta Detail Sempre qua Ciao 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 Ciao